ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube allora questi sono gli ingredienti per fare questi grossini che sono dei panini poi spaccati a metà e fatti biscottare userò un prefermento che ho preparato ieri sera allo sciato a temperatura ambiente questa è la farina di tipo 2 come vedete una semi integrale e insieme alla zero ho preparato l'acqua poi vediamo quanta quanta ne assorbe faccio metto le farine in autolisi vedete ho messo quasi tutta l'acqua e la lascio 30 minuti 30 minuti in autolisi ok quindi copro copro tutto e aspetto passato il tempo ecco qua è passata una mezz'oretta ci ho versato dentro il prefermento mi è scappata la sequenza scusatemi vado a far girare in planetaria allora faccio girare piano e continuo a mettere la restante acqua ok controllo dopo aver messo l'acqua controllo un attimino perché se serve ne metto un altro cuccino ma mi sembra che sta bene così faccio girare ancora stacco anche l'impasto lo stacco per mettere l'olio ma non lo metto non metto tutti i 10 grammi perché lo tengo poi per metterlo nella ciotola dove andrò poi a fare le pieghe aggiungo anche il sale e faccio girare come al solito ormai questi passaggi li conoscete già meno che non andiamo a fare un impasto a mano faccio girare non molto una diecina di minuti e poi sul piano di lavoro faccio queste pieghe tipo slap and fold vedete molto morbido l'impasto ok mi preparo la ciotola dove andrò a mettere l'impasto per fargli fare la prima lievitazione lo metto lo metto nella ciotola lo unta bene con l'olio che era rimasto e adesso lo faccio rilassare un pochino mezz'ora 40 minuti ma si fa tanto freddo anche un'oretta e ci faccio un giro di pieghe ecco qua facciamo un giretto di pieghe come vedete l'impasto si vede che è una semi semi integrale alla farina di tipo 2 è una semi integrale quindi dentro ci sono tutte le proprietà del chicco di grano ecco qua adesso copro lo metto a temperatura ambiente e aspetto sono passate all'incirca 4 ore e adesso lo metto sul piano di lavoro appena dove ho spolverato un po' di farina lo allargo e farò il primo giro di pieghe allora il tempo della lievitazione come ho già detto altre volte è sempre relativo quindi non rispettate alla lettera i tempi che vi do perché dipende dalla stagione in cui in cui fate il pane dalla temperatura che avete in casa quindi cambiano cambiano i tempi comunque si vede quando è cresciuto non dico raddoppiato ma insomma deve crescere deve aumentare di volume bene dopo fatto il primo giro lo copro lo faccio riposare e rilassare una trentina di minuti e poi faccio ancora un secondo giro è passata l'altra mezz'oretta vado a fare le pezzature metto un po' di semola sulle mani allora procedo così lo allungo un pochino eccolo è ancora molto morbido come vedete adesso lo taglio con un tarocco per lungo a metà e poi lo ritaglio vediamo quanti quanti penninetti posso fare direi tre adesso ne peso uno per regolarmi ma presso a poco sui 100 grammi 120 grammi presso a poco ne peso soltanto uno poi mi regolo ad occhio o se volete farli più piccoli forse è meglio adesso li faccio così vediamo quello che esce fuori quindi ce ne vengono sei poi una volta aperti a metà sono 12 bene metto sempre un po' di semola piego li piego così piego i lembi e poi arrotolo in questo modo si la grandezza direi che va bene perché più piccolini poi sarebbe anche difficile allora li allungo un pochino ai lati non debbono venire appunto come le ciriole però debbono essere un pochino arrotondati ecco così va bene bene proseguo una volta formati tutti ho messo un telo come avete visto su una teglia è una tovaglietta che uso sempre per fare per fare le lievitazioni diciamo non del pane normale che metto nel cestino ma di altre cose quindi ho insieme un lato per benino ed ho piegato il telo per mantenerli separati ecco qua e adesso li copro li copro per benino li lascio lievitare ancora io penso altre due orette possono bastare vediamo allora io direi che sono pronti quindi mi sono già accesa il forno a 230 gradi poi manderò uno spruzzo di vapore soltanto uno ho preparato la pala con la carta forno io procedo così voi fate come meglio credete come siete abituati e tranquillamente con le mani mi prendo i panetti eccoli qua i panetti i panini i panetti sono della pizza li appoggio sarebbe meglio rigirarli quindi da come li prendiamo li rigiriamo in modo che vengono un po' gonfi anche sotto perché dovrebbero venire gonfi sia sopra che sotto però vabbè non importa insomma ci metto un po' di semola sopra e li inforno allora aspetto che diventano dorati quindi ci vorranno una ventina di minuti non aspetto fino a cottura perché debbo aprirli ecco così io direi che va bene io comunque ne lascio due a panini perché mi servono due panini naturalmente se non volete fare i crostini fate i panini allora li tiro fuori e ancora ancora caldi non aspetto che si freddino e faccio piano piano senza scottarmi li apro eccoli qua vedete sotto non sono proprio tondi ma non importa sono bellissimi avete visto sono molto molto alveolati vediamo quest'altro scotta un pochino ecco qua vediamo eccoli qua guardate che belli sono bellissimi sì anche come panini magari bisognava farli cuocere di più per lasciarli a panini quindi li ho aperti e il forno l'ho abbassata a 180 e li ho fatti tostare biscottare così come si fa con le friselle eccoli qua bene ed ora non ci resta che gustarli io li mangio subito li condisco ho fatto dei pezzettini di ciliegini ciliegini top li ho conditi e quindi con il loro succo li ho fatti anche un pochino ammorbidire altrimenti bagnate li è ma così sono perfetti specialmente caldi bene amici vi ringrazio della visione come al solito vi invito a lasciare un like a condividere il video e cliccare sulla campanella per ricevere le mie notifiche ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao ciao